Ingredienti per tra 8 e 10 persone per la gente lievitante 50 ml di latte, 15 g di lievito di birra, 30 g di zucchero 1 cucchiaio di malto o miele, 30 g di farina Per l'impasto dei maritozzi 200 g di farina manitoba asterisco 250 g di farina 00, un uovo 100 g di zucchero, scorza di vi limone, una bustina di vanillina 125 ml di olio di semi, 200 ml di latte Ricetta di cucina maritozzi Iniziate la ricetta mescolando il lievito con il latte tiepido Unite lo zucchero, il malto e la farina e lasciate riposare 30 minuti A questo punto lasciate mischiate una ciotola l'uovo Lo zucchero La scorza di limone La vanillina L'olio Il latte tiepido e il lievito che avete fatto riposare A questo punto della ricetta di cucina dei maritozzi Dovrete aggiungere farine poco alla volta e lavorate a mano o nella planetaria Ora dovrete lasciare lievitare l'impasto 3 ore circa Poi preparate i maritozzi, prelevando un pezzetto di impasto alla volta e dandogli la forma di pagnottelle Lasciateli lievitare in forno spento 30 minuti Poi cuocete a 180 gradi per 20 minuti Serviteli con zucchero a velo e farciteli con panna fresca montata al momento A piacere Difficoltà media Tempo di cottura 20 minuti Tempo di preparazione complessivo 4 ore facebook Lo